Una situazione davvero assurda al quartiere Tamburi di Taranto. Ci troviamo in piazza Gesù Divin Lavoratore, ma la stessa cosa in tantissime strade del quartiere in oggetto. Hanno praticamente allargato a dismisura i marciapiedi in una maniera incredibile e hanno ristretto le carreggiate con un giro, un gioco di rondò continui e i cittadini, gli abitanti della zona davvero sono proprio esasperati. Io voglio dire che 30 anni fa hanno tolto i marciapiedi per far camminare le macchine, stanno mettendo i marciapiedi perché a che senso? Io le macchine dove le devo parcheggiare hanno tolto prima di tutto i parcheggi, noi qua sui Tamburi non siamo abituati a camminare a piedi, alla fine sempre con le macchine. Ma poi basta un piccolo marciapiede? Un piccolo marciapiede, che io che devo fare? No, hanno fatto un marciapiede enorme. Il rondone è pericolosissimo, quando vengono da Stat è pericoloso, non hanno fatto neanche una cosa bella. Adesso hanno fatto un marciapiede enorme, per me hanno sbagliato tutto. Una cosa proprio illogica, senza senso? Grazie. Noi vogliamo dare spazio, io da consigliere comunale voglio dare spazio ai cittadini, agli abitanti della zona perché sono loro che vivono, come dire, certe situazioni incredibili, drammatiche. Se fossi a parlare soltanto io si potrebbe dire ma tu parli per partito preso. No, è la realtà. La gente protesta contro una scelta, contro scelte prive di ogni logica, assolutamente irrazionali. Questa, evidentemente, cari Tarantini, è la rinascita di Taranto che il sindaco Melucci dice di aver seminato. Questa è Taranto, dice giustamente il ragazzo. Questa è Taranto. Purtroppo i Tarantini hanno abboccato e creduto alle favole e agli scempi politico-amministrativi del sindaco Melucci e di tutto il suo staff.